In un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, il Comune di Sapri istituisce e gestisce in collaborazione con la pubblica assistenza Geo Onlus il servizio di trasporto sociale rivolto alle persone non autosufficienti, che non sono autonome negli spostamenti e che non hanno familiari che possono effettuare l'accompagnamento per consentire loro la frequenza di strutture sanitarie. Il servizio, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, vuole così favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione facendo particolare riferimento ai disabili e agli anziani. Possono infatti soffrire del servizio i cittadini oltre 65 anni, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, i disabili e le persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, che siano residenti nel territorio comunale e che debbano recarsi presso l'ospedale dell'Immacolata per effettuare visite o cicli di terapie mediche. Il servizio sarà garantito da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e si considererà concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il domicilio del trasportato. Ma non finisce qua, perché l'automedica adibita al trasporto sociale, oltre a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie, assicurerà anche due corse giornaliere per chi vorrà recarsi al cimitero per le visite ai defunti. In questo caso le corse saranno effettuate i primi tre sabati di ogni mese per gli anziani e per le persone non autosufficienti e l'ultimo sabato di ogni mese per i portatori di handicap. I soggetti che intendono soffrire del servizio di trasporto sociale devono obbligatoriamente presentare apposita istanza presso il settore assistenza del Comune di Sapri. Le domande presentate saranno quindi soggette a valutazione ed accolte se risulteranno rispettate almeno le condizioni minime previste dalla legge. Per informazioni, rivolgersi al Comune di Sapri oppure alla New Geo componendo lo 0973 60 30 62.